Scorro l'elenco dei soci ATIT che hanno i requisiti per partecipare all'estrazione del premio di 100 euro in buoni libri, essendo in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno 2014. Scrivo la formula per generare un numero casuale tra 1 e 134. Il vincitore è il socio corrispondente al numero 29, Costa Alessia.